Matti, tieni, mamma ti mette la magliettina. Sì. Volevi farlo sola? Sì. Eh dai, non abbiamo tanto tempo questa mattina, Matti. Forza! Dammi la manina. Sì. Appena abbiamo un pochino più di tempo, ti puoi vestire da sola. Ecco qui. Ma com'è bella questa magliettina. Ti piace? Qui. Meno male. Va brava. Ecco qui. Ci sono tutti i fiorellini, hai visto? Oh, che carina e bellissima, Matti. Adesso allacciamo il bottoncino. E adesso è il momento di pettinare i capelli. No. Lo so, Matti, che non ti piace, ma ti prometto che ci metteremo davvero pochissimo tempo. E poi sarai pettinata e ancora più bella di adesso. Ecco, guarda. Ci si mette davvero poco, perché questa spazzolina è super umanica. No. Lo so, lo so, Matti. Guarda, abbiamo quasi finito. Eccoti qui. Ma che bella bambina. Tutta pettinata. Adesso possiamo mettere anche un fiocchetto. Guarda. Ti piace questo, Matti? Ti. Dai, mettiamo questo. Anche alla tua maestra piace tanto. Ecco qui. Ma come stai bene! Oggi succo mela, fragola e yogurt, Matti. Prepariamo subito il tuo zainetto con tutto l'occorrente per questa giornata. La tua tazza. Ti. Il tuo succo. Questo bruchino. La bavaglia. Oggi questa viola preferisce l'unima. E anche questo piattino. Bellissimo. Tutto abbinato con gli unicorni, come piace a te. Matti, lo sai che cosa facciamo adesso prima di uscire? Cappe. Bravissima. Mettiamo le scarpe. Ma che belle scarpine che hai, Matti. Ti piacciono? Sì. Meno male. Dai, mettiamo la prima. Ecco qui. Chiudiamo con la cerniera. Forza. Anche questo piedino è sistemato. Perfetto. No, no, no. No. Dai, Matti. Lo so che non ti piace mettere il giubbotto. Ma dobbiamo proprio. Fuori fa freddo. Forza. Adesso dammi l'altro braccino. Ma c'è una manina che sbuca qui. È la manina di Matti? Sì. Sì. Sì? Eccola. Ma che bel giubbottino con tutto il pelo. No, no. Non lo vuoi adesso? No. Hai ragione, fa un po' caldo. Lo mettiamo quando usciamo, va bene? Sì. Matti, per favore, non toglierti le scarpine che le ho appena messe. E adesso dobbiamo uscire. Pronta per andare all'asilo, Matti? Siamo un po' in ritardo, come al solito. Speriamo che la maestra non si arrabbi troppo. Devo mandare avanti un sacco di lavoro. Tutte queste cose che si accumulano. 12 nuove email. Leggi. Arrivo, arrivo. Sì? Pronto? Amore. Ciao. Come stai? Bene, dai. Sì, tutto bene anch'io. No, no. Questa mattina sto un po' meglio. Sì. Matti sta bene. L'ho appena portata all'asilo. Non ho smesso di piangere quando l'accompagno, quindi direi tutto a posto. Esatto. Esatto. Tra l'altro domani volevo portarla a prendere un libro per prepararla all'arrivo della sorellina. Esatto. Esatto. compa. Come sempre sono stati? Per la borsa del parto che sono stati saluti a testa. Amore? Per l'arrivo di lavoro. E' sei molto impegnato, capisco, no ma davvero di questo non ti devi assolutamente preoccupare, figurati, ok, perfetto, allora ci sentiamo domani, certo stasera, per il messaggio del lavoro al monte per mati, perfetto, ciao amore, buona giornata, ciao! Eccoci, finalmente a casa, mati sei stanca, adesso ero di merenda, tocco, tocco, sì mati e qui il tuo succo, ma aspetta, prima mettiamo la pavaglia, così non ti sporchi i vestitini, ecco qui, qui c'è il tuo succo e adesso ti do i biscotti, va bene? Cocchi, biscotti, biscotti, uno, due e tre. Mati sono buoni i biscotti che stai mangiando? Tì, tì, cocchi, cocchi. Vuoi un po' di succo mati? Tì. Dai, da brava. Uuuu. Ma guarda un po' mati quanti bei giochi che ci sono qui. Buu, buu. Hai ragione, c'è anche buu, guarda. C'è anche il gelatino magico che puoi scomporre e ricomporre, guarda un po'. Ti piace questo, vero? Tì, tì, questo. Questo poi vediamo. C'è il tuo unicorno rosa. Rosa, c'è il tuo rosa. Rosa, bravissima. E poi ci sono Peppa e Giorgio. Insomma, hai un sacco di giochi. Però mati che giochi un pochino tranquilla adesso. Da brava. C'è qui buu, buu. E hai davvero tanti, tanti giochi con cui intrattenerti. Mamma si mette un attimo sul divano perché è davvero stanchissimo. Mati, stai giocando con Peppa? Ma che bello. Sei proprio una brava bambina quando giochi così tranquilla. Che stanchezza. Io Peppa Io Ciao Peppa Ma Ma Nanna Ma Peppa Sì, sì, sì. Matilde? Deve essere cacciata. Matilde?